Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Narac, se preferite bentornati su Drown Zedocam Battle, video riepilogo della live di ieri, quella che ho fatto la sera, più le nuove info trappelate nelle ultime ore. Parliamo dei 250 milioni. Il video sarà diviso in due parti, la prima parte le notizie certe, sicure al 100%, la seconda parte invece vedrà le notizie non ancora confermate, ma che potrebbero essere vere. Quindi ragazzi, mettetevi comodi e iniziamo a parlare di cosa ci aspetta in questi 250 milioni. Iniziamo con la cosa che tutti aspettavano, i ticket, torneranno i ticket e prenderanno un ammontare, e qua c'è Sara, ciao Sara, e prenderanno un ammontare di tempo davvero immenso. Riceverete un ticket ogni 50 stone spese, non per forza i molti, vanno bene spese in qualsiasi modo, a partire dal 22 luglio 2017, sino al 21 agosto 2018. Ragazzi, per un free to play che ha speso le stone ottenuti in questo periodo di tempo, si parla di almeno 40-50 ticket circa. Il che non è male, un ticket aggiuntivo dovrebbe essere regalato all'inizio dei prefesteggiamenti. Quando iniziano, dovrebbero iniziare il 21, il giorno dopo la mega manutenzione nel JAP, ma questo è ancora un illazione. Entrando invece nelle info non sicure, parliamo della batch dei ticket. La batch dei ticket sappiamo di sicuro che sarà come le precedenti batch, quindi ci saranno molti da 5, salvo che non mettono 10 per far giusto prima, dato che è un anno di ticket, e saranno presenti in retap probabilmente tutti i PG Dokkan Festival del gioco. LR non si sa se incluse o escluse. I grandi esclusi dovrebbero essere i PG delle ultime due batch, quindi nel global non dovremmo avere Tarles e le LR, nel JAP potremmo non avere C17, anzi C17 è sicuro che non ci sia, dovremmo avere C17 e Goku Full Power. Naturalmente qua siamo in una piccola parte di illazioni, non ne siamo sicuri. Dalle informazioni che sono state date all'uscita dell'aggiornamento che dava l'SSR assicurato alla fine di ogni multi, sappiamo che non ci sarà SSR assicurato, quindi non cambierà nulla tra singole e multi. Se vi chiedete se porterò un video pool, per una volta vi posso dire sì, porterò un video pool, non lo dividerò in 100.000 salvo che non faccia qualche video con qualche collega, non lo dividerò in 5.000 parti come so che si dovrebbe fare, un mega video pool in cui pullerò, pullerò, pullerò. Ho fatto un calcolo, dovrei finire con un paio di centinaia di ticket, circa, decina più, decina meno, quindi vediamo un pochino. Naturalmente ragazzi i reti saranno imbarazzanti. Trovare anche solo un PG che ci serva all'interno di quella mega batch sarà abbastanza... e vai! Oltre questo uscirà la batch con stone dei ticket che ragazzi non serve dirlo, evitate come la peste. Passiamo poi a parlare della nuova campagna, JAP vs The World. Come è successo l'anno scorso in cui abbiamo affrontato una gara a chi riusciva a fare più cose tra JAP e Global? Questa si ripeterà, solo che invece di avere da una parte Vegeta e dall'altra Yamcha, avremo per i vincitori un Goku Super Saiyan e per i perdenti un Freezer forma finale. A differenza della volta scorsa che Yamcha era la cosa che proprio era un'umiliazione assoluta avere, qua preferirei aver Freezer, però so che alla fine il JAP probabilmente vincerà di nuovo. Come sarà fatta questa battaglia? sappiamo alcune cose ufficiali e ufficiose. Le ufficiali sono che verranno calcolate queste cose. Il numero di stage completati, il numero di allenamenti fatti, il numero di Dock and Awaken, c'è un rumore che non mi piace, un secondo solo, il numero di Dock and Awaken, il numero di zeni ottenuti, il numero di coppie di piccolo di cui parleremo a breve ottenuti, il numero di rank up fatti durante l'anniversario e il numero di oggetti rana ottenuti, oggetti che molto probabilmente saranno il nuovo oggetto dei download, quelli là che danno più 3 ki e altre statistiche che alla fine dei festeggiamenti diventano inutili. La rana probabilmente sarà Giniu trasformato in rana. Una volta finita la competizione, che non si sa quanto dovrebbe durare, ai vincitori verrà dato questo Goku con 5 coppie per portarlo con l'ability, ai perdenti Freezer. Vi prego ragazzi del jump, perdiamo. Ve lo chiedo davvero, per piacere, perdiamo. Quel Freezer è davvero bello e Goku ne abbiamo 200 milioni. Esattamente come per i ticket dovrebbe iniziare tutto il 21 in via ufficiosa. Passiamo ora a discutere del login. Ragazzi, non si sa quante stone daranno. Ve lo dico, si spera daranno un numero di stone vicino a quelle dati per i 200 milioni, che erano sulle 4-500. Non abbiamo però info. Di sicuro avremo un login abbastanza corposo, di sicuro avremo l'arrivo in pre posizioni negli store. Non mancheranno i premi. Attualmente del login sappiamo unicamente riguardo una cosa, ovvero il 21, dato ufficiosa, riceveremo tramite il login una copia di piccolo SSR AGL. Piccolo di cui parleremo subito. Questo piccolo SSR AGL sarà il primo evento che uscirà in questi festeggiamenti. Sarà una carta SSR portabile a Tour tramite un apposito evento, portabile a Full Ability tramite un altro apposito evento o lo stesso, e successivamente portabile a livello 140 ESA. Il commesso non bastare sarà il primo PG con meccanica di trasformazione. Esatto ragazzi, in condizioni che ancora non si sanno, il caro piccolo si fonderà con AGL per diventare un PG ancora migliore. Non si sa nulla riguardo le caratteristiche di questo piccolo. Probabilmente sarà un healer un buffer, sappiamo unicamente che AGL. Anche questo dovrebbe uscire il 21 con i prefesteggiamenti che dureranno 7 giorni. E ora ragazzi, iniziamo invece a parlare di altre notizie, maggior parte non ufficiali, vi dico subito, su quello che potrebbe arrivare, e calcolando che i link che hanno dato tutte le info precedenti ci hanno azzeccato, è molto probabile che anche le prossime notizie siano tutte veritiere. Ma ad oggi non abbiamo ancora le prove, quindi le metto sotto notizie non ufficiali. Prima che però me ne dimentichi, vi avviso che è stata annunciata anche la Boss Rush numero 6. Boss Rush che regalerà al suo primo completamento 35 stone e che avrà numerosi premi in base al tempo di completamento. Avremo quindi la prima vera e propria sfida in una Boss Rush, oltre che nel finirla, ma ultimamente non è stata proprio la grandissima sfida, la Boss Rush 5. Vedremo che PG avrà dentro. La cosa più probabile è Vegetech, Rosette Str, Tapion, Gokul 3 Stinto, e me ne dimentico uno, ne sono certo, Gokul 3 Stinto, e che mi sto dimenticando di Class Leader, che non ci sono nell'altra dopo Vegetech. Mi stavo dimenticando un Class Leader, però è così. Non penso avrà dentro Tarles in quanto è appena uscito nel Global, e non so dirvi se potrebbe avere dentro le due LR. In quel caso, spero tolga noi di legare il buttino dentro le due LR. E ripeto, 35 stone di premio, anche questo dovrebbe essere in uscita il giorno 21. In via ufficiosa. E ora ragazzi, sedetevi, perché passiamo alla parte più succulenta, ovvero il nuovo Dual Fest. La data non è ancora sicura, dovrebbe però partire il tutto il giorno 28 agosto, quindi non questo lunedì, il prossimo. Non ci sono ancora prove tangibili su chi siano i PG, quindi tutto quello che dirò da adesso in poi, prendetelo con le pinze, potrebbe all'ultimo momento venire tutto confermato o tutto smentito. I PG pare saranno Goku Super Saiyan AGL in una batch e Freezer prima forma Tech dall'altra. Il tutto è stato confermato poche ore fa da alcuni post su Twitter. Non si sa ancora la loro classe, io deduco che Freezer sia ovviamente Strongest Clan in Space, se non lo è da sparare all'Akatsuki, mentre Goku potrebbe essere Super Saiyan 1 o The First Awakened. Sono le due classi abbastanza interessanti. Questo era quello che pensavo fino agli scorsi Twitter. Dopo lo scorso Twitter, la classe di Freezer rimane probabilmente Strongest Clan in Space. La classe di Goku penso sia davvero The First Awakened, in quanto è stata spoilerata, diciamo, una parte della loro passiva, ovvero una nuova meccanica di trasformazione. I PG partiranno da prima forma e Super Saiyan e ogni turno aumenteranno di trasformazione. Avremo quindi Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue e dall'altra parte prima forma, seconda forma, terza forma, corpo per forma finale e golden. Nulla di questo è confermato, ma pare si muoverà così questi due nuovi PG. Cosa ne penso? Allora, una meccanica che all'andare avanti nella battaglia modifichi la passiva del PG può essere interessante. Se e solo se regala un controllo, mi spiego, passive completamente diverse non hanno senso di esistere. Non puoi farmi che Goku a Super Saiyan ha una passiva, a Super Saiyan 3 ne ha un'altra, a Super Saiyan Blue ne ha un'altra ancora. No, perché rendi il tutto troppo casuale, rendi che non puoi davvero sfruttare il PG. Passive in crescita invece possono essere decisamente interessanti. Che ne so, Goku parte con un più 50% d'attacco, arriva un più 100% d'attacco e se vuoi infine un più 120% al lancio della special. Capite cosa voglio dire? Quello sarebbe davvero interessante. Con i link che cambiano man mano. Ora, i link che cambiano man mano sono un problema. Perché vuol dire che in determinate turnazioni te dovrai tenere il PG dentro a turnazione, poi buttarlo fuori perché non sarà più buono, renderà molto più strategico la creazione di alcuni team. Sarà divertentissimo, come va detto, a farsi alcuni team building che a partire dal terzo turno dovranno avere questo Goku, dovranno giocare lo terzo in modo che al dato turno lui torni in una determinata forma e tutto quanto. Sarebbe davvero bello e aumenterebbe la complessità del team building a livelli che davvero poi arriviamo che nessuno capisce di che cosa parlo. Altro che Tarlas e Splashing che sono a livello di Priscilla come complessità. Qua arriveremmo davvero a team in cui bisogna modificare le turnazioni in base alla trasformazione indeterminate i PG in modo da massimizzare il danno di altri. Arriveremmo alla figata ragazzi, arriveremmo alla figata. Stessa cosa per Freezer, ma lui si va molto più tranquilli, tanto a prescindere da che forma abbia. Sei preso le clinche a Freezer, che è giusto se guadagna l'esplosione o altre robe. I PG se hanno una passiva evoluzione a crescita promossi a pieni voti come meccanica. Davvero iniziamo ad avere cose davvero complesse e a me piace. Se hanno passive che Super Saiyan 3 fa per ogni chi Super Saiyan Blue al lancio della speccia, Super Saiyan God evade e una cazzata e verranno bocciati pesantemente da me personalmente. Le due batch non abbiamo info, ma in quella di Freezer tornerà pressa poco di sicuro Rosè, perché se non torna Rosè in quella di Freezer è da uccidere la gente. Di sicuro non dovrebbero essere presenti le due LR Dokkan Festi, né in Global né nel JAP. E quella Global ipoteticamente dovrebbe essere leggermente peggiore. Non perché è Global, ma perché alcuni PG non ci potranno essere. In quella JAP potremmo avere il ritorno anche di Tarles, volendo. In quella Global sarebbe una presa per il culo a chi ha pullato su Tarles. Sinceramente sarebbe una presa per il culo parecchio grande, anche perché le stone Global ce ne stanno poche attualmente, con i servizi bloccati. Quindi prendiamo per il culo ulteriormente. Non ci sono info riguardanti, ticket e roba varia. Ci sarà il solito metodo, ogni tre multi una gratis. Quello è sicuro. i PG dovrebbero uscire quindi il 28 e spero, anche se ormai non ha senso neanche sperarci, in un Dokkan Event minimamente complesso. Proverò il Team Giant Ape, magari così sarà complesso. Se l'ho dato contro Tarles ci ho vinto facile. Speriamo bene, speriamo bene, ragazzi. Queste sono le info riguardanti la prima metà dei download, ma ci sono già le info riguardanti la seconda metà. Sono presenti due info principali riguardo due nuove LR. Partiamo con la notizia più tranquilla di tutte, ovvero Great Siamen 1 e 2 LR. Sarà un LR free to play di cui non si sa il colore, molto probabilmente fisica, a teoria, molto probabilmente fisica, free to play, ottenibile nelle friend summon. Non ci è dato sapere altro, sarà facilmente ottenibile circa, ogni circa 20-30 multi dovrebbe uscirvene almeno una copia. E nient'altro, non mi aspetto assolutamente nulla dal PG, non vedo team in cui sarà giocabile, salvo che non sia un LR di livelli, bello, metal, cooler, veget blu, oppure il cargo QLR, ma non ho le info per dirlo attualmente. Aspettiamo quindi la loro uscita e facciamo una bella analisi e proviamoli. Oltre un milione di friend point, quindi appena escono me li porto, full ability, max SA e tutto quanto. Bello, tranquillo e tutto quanto. Per portarli a LR, molto probabilmente ci serviranno le medaglie dell'evento di Gersayaman. Più medaglie del torneo, secondo me, forse. Vedremo, non ci vorrà chissà quale cosa assurda, però potrebbe essere un pochino tedioso. Aspettiamo e vediamo. E infine, la notizia che distruggerà i free to play. Oltre ad avere un dual fest, quindi stone che andranno via come se non ci fosse un domani, nella seconda parte di questi festeggiamenti, siamo sempre tizi non ufficiali, quindi potrebbe essere totalmente una panzana, uscirà una nuova LR pullabile. Per l'esattezza uscirà l'LR di Goku e Freezer. LR che si richiama molto probabilmente al torneo del potere nella scena finale del pugno, di cui non sappiamo nulla, né il banner, né se è un LR Dokkan Fest, né altro. I miei pareri, ragazzi, non è un LR Dokkan Fest, sarà una leggenda di Sammon e ci prosjugherà. L'LR è abbastanza scontato come verrà portata LR, avrà bisogno delle medaglie di Goku LR, di Freezer LR per la prima trasformazione, e le medaglie dei Dokkan Event nuovi per la seconda. Mi pare scontato in una maniera indicibile. Temo in tante medaglie di Goku e Freezer LR, spero di no, e nel 77 medaglie di uno e dell'altro per andare a LR. Colore non ne idea, sarà super, non state a pensare prima carta super e extreme, sarebbe già stato visto negli asset e in tutto. Freezer in quel momento il tono del potere è un super a tutti gli effetti, quindi non viene calcolato extreme. non avrà e sia farmabile, ragazzi, molto probabilmente, perché penso parta da Goku e Freezer su una Mech, Goku e Freezer Super Saiyan e Final Form su una Mech, Goku e Freezer Super Saiyan e Final Form in Resurrection of F, e Goku e Freezer Super Saiyan e Final Form nel torno del potere. Cosa mi aspetto? Purtroppo vi dico, mi aspetto un LR abbastanza obbligatore nei due nuovi class team. Quindi nel global sarà un casino, calcolando il numero di stone esiguo che ci sono. I free to play dovranno saltarla perché, ragazzi, è più importante avere i leader che un PG del team, salvo un caso, ma lasciam perdere Tarles in cui aver lui vi garantisce una marea di team. Ma non penso che questa LR garantisca nulla di ciò. La mia speranza più grande è che prego che si torni su con l'LR, perché c'è stato così. Goku Super Saiyan 3, Bardak, sto indicando tipo il piano di sotto, Beerus, sempre piano di sotto, Cell, siamo tornati un pochino più su, spero che qua torniamo qui con questa LR doppia. Speriamolo, ragazzi. Non so che dirvi. Sarà presente la seconda parte dei festeggiamenti, deduco quindi metà settembre, 12-13 settembre uscirà probabilmente. Ci sarà ancora il banner Dokkan Festival, molto probabilmente. Vediamo quante stone regalano, vediamo. Io se riesco sicuro mi irrò a prenderla, però dipende sempre se sculono i due nuovi pg, perché non è detto che li riesca a sculare. C'è già setembre, è costato l'anima trovarlo. Un due copie è mai costato l'anima. Sti qua potrebbero costarmi di nuovo anche loro l'anima. Infine, ultimissima cosa che mi sono dimenticato, molto probabile il ritorno della campagna di Polunga con i tre desideri, quindi Orb, Kai e roba a profusione. Detto questo io vi ringrazio nel seguito, penso di aver fatto il video più esastivo possibile. Non ho visto i colleghi se l'han fatto come le hanno fatti, ma penso che di aver messo tutte le info possibili, tutto quello che si potrà sapere speculato e sicuro, fatemi sapere voi cosa ne pensate e noi direi che ci vediamo domani o con info, dato che c'è una manutenzione JAP, molto importante, si cambia versione e parleremo magari della nuova versione, oppure mi vedrete incazzato nero a recensire di nuovo Pyrus LR. Quindi io vi ringrazio, non so se stasera ci sarà una live su Monster Hunt, nel caso, altrimenti, buona serata e buon continuo di ferie. Alla prossima ragazzi!